lettera un giudice racconto fantastico sulla corruzione il primo romanzo dell'intellettuale critico letterario irpino paolo saggese è stato presentato nell'aula palatucci del liceo classico pietro giannone di benevento una folta platea di studenti ha assistito alla presentazione di questo racconto fantastico sulla corruzione problema attuale che ostacola la crescita e danneggia le persone oneste è un volume attuale che ci racconta l'italia di oggi con alcuni dei suoi aspetti più negativi è un'opera ricca di riferimenti all'usione esplicite e non a numerosi filosofi poeti scrittori intellettuali tramite l'espediente dell'utilizzo di un mondo fantastico il discorso si incentra sul funzionamento del nostro ordinamento politico istituzionale ad introdurre i lavori il professor nicola sguera la corruzione è sicuramente una piaga del nostro paese in che modo lei ha scelto di raccontarla ma io l'ho raccontata innanzitutto attraverso un racconto fantastico poi ovviamente in questo in questa repubblica che io immagino che si chiama la repubblica dei pomodori magari ognuno può riconoscere se stesso episodi della propria esistenza momenti della propria vita e io l'ho raccontata con ironia ma anche con drammaticità perché il libro presenta corde molto diverse e racconta gli stati d'animo di un cittadino onesto che io chiamo candido in come omaggio innanzitutto a volter e a sciascia un candido che a un certo punto decide di tentare un concorso pubblico convinto di vivere nel migliore dei mondi possibili che questa è la teoria appunto ironica volterriana nel migliore dei mondi possibili cosa può accadere che i migliori più onesti più preparati possano vincere un concorso candido è convinto di questo e va avanti per la sua strada poi con il tempo andando avanti in queste vicende della sua esistenza scopre che invece talvolta o spesso un concorso magari nella repubblica dei pomodori sia viziato da altri fattori che non sono quelli del merito delle capacità dell'onestà e e allora decide di raccontare la sua vicenda a un giudice per questo il racconto fantastico è una lunga lettera a un giudice in cui candido racconta come si è svolto il concorso a cui lui ha partecipato ma non con l'idea di far cambiare una sentenza che si prevede su questo concorso ma con la volontà di voler chiedere a uno stato più che di applicare il diritto ma piuttosto di garantire ai cittadini giustizia perché purtroppo nella repubblica dei pomodori la giustizia spesso non si realizza questa lettera un giudice romanzo fantastico dell'ospite di oggi al liceo classico e allora qual è il retro pensiero secondo te di questo lavoro? Prima di tutto io sono assai felice che il liceo classico ospiti una personalità prestigiosa come quella di Paolo Sagese che è un grande intellettuale del nostro sud che si cimenta per la prima volta dopo libri da studioso con la fiction potremmo dire ma in realtà dietro la finzione descrive purtroppo l'Italia a cui siamo abituati quella della raccomandazione quella per cui il merito non viene mai premiato e vanno avanti soltanto gli amici dei potenti e quindi un quadro come dire drammatico e a me fa piacere che Paolo ne possa parlare ai nostri studenti invitandoli a rigore morale a non rassegnarsi diciamo a questo destino che sembra quasi atavico ed eterno dell'Italia ma affinché ciascuno di loro si impegni per cambiarlo